ciao a tutti oggi sono qua per una nuova proposta che spero vi piaccia si tratta di tre sabati online tre perché perché ho finito da qualche giorno un percorso che si è chiamato portare frutto l'abbiamo fatto in presenza che a romena ed è piaciuto insomma a me non mi ha divertito io spero che sia piaciuto ma mi pare di sì anche gli altri poi ho visto nelle mail e anche in alcuni messaggi che delle persone da lontano mi dicono ma noi siamo lontani deve fare qualcosa anche per noi allora mi ha presa l'idea di poter riproporre quei tre sabati online come si faceva ai tempi del covid che insomma si era trovata con la formula della giornata formativa che non era poi noiosa pesante insomma spero di riuscire a fare ancora delle cose che si possano seguire senza fatica la voglia di proporre tre sabati sullo stesso tema rigirando un po il percorso ma insomma quello lì tanto è tranquillo quindi il tema il corso intero sentiamo portare frutto primo sabato si parla di consapevolezza il secondo di efficacia e il terzo di abitare i confini ecco io spero che vi piaccia insomma venite dai e noi che usiamo lo stesso sistema c'è uno si iscrive qui al centralino di romena poi il giorno dopo io il giorno prima il giorno prima vi mando il link così nelle tre date che ora vi dico vi potete collegare nel periodo dalle 9 alle 9 e mezzo lavoriamo 9 e mezzo fino a luna e pranzo cioè la pausa pranzo e dopo riprendiamo fino alle 5 e mezzo quattro e sei le date sono il primo di aprile è un sabato il secondo tema invece lo faremo il 22 aprile sempre di sabato e il terzo è il 13 maggio sempre di sabato come conclusione quindi avete capito insomma si tratta di iscriversi e poi di aspettare di darci una conferma se insomma il centralino vi darà tutte le istruzioni e poi di aspettare il link il giorno prima noi chiediamo un'offerta un'offerta se volete libera se volete insomma con molta libertà anche perché ecco vi devo dire che questa iniziativa insieme al gigi quindi e rovena la devolviamo all'associazione che è un'associazione che io ho c'ho tipo 120 ragazzi al doposcuola ma devo un po durare fatica per trovare anche i fondi per il finanziamento allora queste inizie queste offerte saranno poi devoluti al a questo a mantenere questo progetto ed è bella questa cosa no una mi dà un'offerta anche piccola io in cambio di da una giornata che spero servano ogni tanto di ascoltare un po di parole che ci fanno bene può essere buono quindi invito tutti vedrete che non sarà difficile né pesante e quindi vi aspetto e scrivetevi numerosi ok ciao dimenticavo scusatemi allora un'ultima cosa ognuno può scriversi anche una data sola non è obbligo a fare tutti i tre sabati quindi tu poi ti puoi scrivere a un sabato solo oppure a due oppure meglio è a tutte e tre quindi vi aspetto ciao